Paolo De Grandis, Presidente della sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara. Prima di parlare dell'esito finale di Start Impresa, le chiedo di cosa si occupa la sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara? La sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara cerca di promuovere tutte quelle attività, servizi avanzati che possano portare valore aggiunto alle imprese del nostro territorio. Tra le nostre attività che facciamo cerchiamo di diffondere ad esempio la cultura della digitalizzazione, la promozione dell'imprenditorialità, le tecnologie e tutti quei servizi per lo sviluppo delle competenze che oggigiorno servono sempre di più per l'industria 4.0 e il mercato che viviamo. Tra le attività che svolgiamo c'è appunto questa iniziativa, questo progetto Start Impresa in cui Confindustria Chieti Pescara, nello specifico la nostra sezione, crede tantissimo e ogni anno cerca di aggiornarlo in termini di strumenti come ad esempio quest'anno abbiamo realizzato una piattaforma online di e-learning per svolgere la didattica a distanza. Start Impresa oggi ha visto svolgersi l'evento conclusivo che ha premiato i migliori progetti. Noi abbiamo assistito alle fasi finali di questa premiazione. Puoi illustrarci in breve qual è stato il progetto vincitore in assoluto, le menzioni speciali e i finalisti? Sì, allora, innanzitutto vorrei specificare che Start Impresa non è un contest in cui andiamo a premiare un'idea migliore, ma è proprio un percorso formativo di 30 ore in cui la Confindustria Chieti Pescara cerca di dare consigli ai corsisti, pratici consigli, strumenti utili a capire, a valutare se la propria idea possa trasformarsi appunto in una nuova impresa. Oggi abbiamo visto cinque progetti finalisti molto eterogenei dal settore dell'abbigliamento, turismo, la blockchain, progetti in ambito blockchain, progetti in ambito sanitario veterinario e abbiamo scelto di premiare un progetto di Daniela Aiello, Design Fashion, riguardante la progettazione di capi di abbigliamento secondo però principi molto innovativi e sostenibili. E questo è stato, diciamo, l'elemento caratterizzante del suo progetto, ovvero l'innovazione sia di processo che di prodotto. Le due menzioni speciali sono state conferite, una da Confindustria Chieti Pescara, da parte del direttore Luigi Di Giuseffatte, a Marco Laurenti per il suo progetto Crypto Rivista, un progetto dall'alto grado di innovatività, essendo l'idea una piattaforma per l'editoria moderna caratterizzata da blockchain. L'altra menzione è stata data a Ophelia Carlotti per un progetto sulla cosmesi personalizzata. Anche questo è un progetto molto innovativo, che punta tanto alla personalizzazione per dei prodotti cosmesi per le labbra, per i clienti. Per concludere, future iniziative per il 2021? Sì, sicuramente c'è il progetto che portiamo avanti da tanti anni, Innovazioni, il progetto di punta della nostra sezione, che si propone appunto l'obiettivo di presentare al mercato le start-up più innovative dell'intero territorio, non solo quello abruzzese. E poi, proprio a breve, ci sarà, in collaborazione con il Comitato Piccola Industria di Chieti Pescara, forniremo una serie di quattro webinar incentrati sulla comunicazione e marketing 4.0 nell'era digitale. Grazie a tutti!